Benvenuti su Gossip Mania TV. Beatrice Luzzi scopretta, con Giuseppe Garibaldi stavamo per farlo ma... Prima di proseguire, se vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità, ti chiediamo gentilmente di iscriverti al canale ed attivare la campanellina. Beatrice Luzzi si conferma come la vera protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello, emergendo come una donna forte e risoluta. Dopo un periodo dedicato alla famiglia e alla crescita dei suoi figli, ora sente di poter finalmente riprendere il suo percorso artistico. Con i suoi ragazzi ormai adolescenti, Beatrice ha trovato nuova ispirazione e motivazione per tornare al suo naturale talento artistico. La sua relazione con Alessandro Cisilin, nonostante sia caratterizzata da grande affetto e fiducia reciproca, si è trasformata nel tempo in un legame più simile a quello familiare che di coppia. Dopo la separazione nel 2019, Beatrice dichiara di non aver intrapreso nessuna nuova relazione, focalizzandosi soprattutto sul benessere dei suoi figli. Durante il suo soggiorno nella casa del Grande Fratello, Beatrice ha instaurato un legame particolare con Giuseppe Garibaldi, vivendo una storia che avrebbe preferito affrontare con più leggerezza, sebbene fosse consapevole dei sentimenti contrastanti rispetto alla sua famiglia. Tuttavia, la sua partecipazione al reality ha avuto un impatto positivo anche sul versante familiare, i suoi figli hanno espresso ammirazione per la sua autenticità e le hanno augurato di perseguire la felicità senza preoccuparsi del giudizio altrui. Beatrice, vista da molti come la vincitrice morale del Grande Fratello, rivela i suoi piani futuri, desiderando organizzare un grande incontro con i suoi sostenitori e aspirando a condurre un programma televisivo incentrato sulle donne, essendo affascinata dalla loro capacità comunicativa e dalla loro energia. Nonostante le difficoltà incontrate nella casa, Beatrice considera l'esperienza del Grande Fratello come una pausa rigenerante dalla routine quotidiana, che le ha permesso di ritrovare se stessa e di riaccendere la sua passione per il lavoro. In conclusione, Beatrice Luzzi emerge come un esempio di determinazione e resilienza, pronta a affrontare nuove sfide e a intraprendere nuovi percorsi professionali, senza mai dimenticare il valore della sua famiglia e il sostegno dei suoi cari. Lascia un commento alla fine del video e seguici per gli aggiornamenti. Grazie per essere stati con noi. A presto con un nuovo video. Ci vediamo al prossimo Gossip.